Allora siamo pronti, liberiamo la pista? Allora, un attimo che arrivo, eh? Gruppo A, danze latino-americane, un bel applauso, Mario e Marianna, Odor della Tascia, Sergio Rietta, Roberta e Angela, Sebastiano e Anna, Modesto e Carla, dai in pista, via, se valla, danze latino-americane. Sì, quattro palli, quattro palli, alzi, per la decisione, sì, sì, ok, due e mezzo, non sono qua, ho parlato, eh? Vai, vai, siamo pronti, eh? Vai, San Paziano! Samba! Non sentite l'applauso, però, eh? Non pare ilo che da amano, ma 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 che da amano? Nonentrico il mondo deve trovare il empako sala, ma che vanno palazzo, palazzo duolo, palazzo duolo, palazzo duolo! Iniziali! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.